Salve a tutti ragazzi sono Andrea e benvenuti in questa nuova puntata di SubSub Oggi andrò a farvi vedere la base realizzata da un utente del nostro forum ovvero Marsk Si tratta di una base che qui abbiamo anche la versione completa ma prima vi farò vedere singolarmente tutte le parti Si tratta di una base modulare quindi assemblabile a piacimento e si compone di vari moduli Adesso ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se mi sbaglio Partiamo ovviamente dal modulo centrale Si tratta di un modulo per il docking quindi centrale Perché magari se uno vuole estendere la base ne può mettere più tipologie di questi Ha 4 docking port di tipologia grande e ovviamente 2 landing legs per tenere la sua spesa Ovviamente delle ruote e può contenere un kerbal comunque con la cupola Perché se non mi sbaglio la cupola ne contiene 1 infatti si Passiamo al secondo modulo Il modulo energetico quindi che contiene dei pannelli solari Si tratta di 4 pannelli solari e ovviamente delle batterie E' piccolo e comunque parecchio efficiente perché si tratta di pannelli solari Adesso non so se ha glicciato anche dei generatori termoelettrici Si ha glicciato dei generatori termoelettrici Quindi anche in assenza di sole la base può continuare a funzionare Abbiamo anche un modulo per fuel tank giustamente Quindi un serbatoio arancione così da permettere alla base in sé di poter anche essere utilizzato come base di rifornimento Giusto scusate se sto facendo non dico velocemente ma neanche di fretta Comunque parlo abbastanza veloce e non mi soffermo su alcune cose Perché oggi ci sarà l'atteraggio di file E quindi cerco di fare tutto il più veloce possibile Così me lo posso godere il live streaming Comunque se magari qualcuno è interessato Noi sul forum KerbalSpaceProgram.it E anche molto probabilmente in TS Io con Alberto e comunque con chi vuole Magari vediamo Ne stiamo parlando e stiamo comunque vedendo Vedremo sicuramente il live insieme Quindi se qualcuno vuol venire può tranquillamente farlo Poi abbiamo due tipologie di moduli habitat Quindi partiamo con il primo Ne contiene tre giusto non due tipologie Ma questa è la versione solamente con il modulo Mentre la seconda è una versione anche con una struttura Che a me personalmente piace da morire Perché è tipo fantastica Adesso qua è rovesciata In pratica a terra Fa da sky crane in pratica È una sky crane Per basi Tipo versione grande E ovviamente il modulo per il The Orbit Poi si sgancia eccetera Comunque ha Quattro each hiker Io con la pronuncia proprio zero Delle luci Delle scale giustamente Anche dei pannelli solari Per rendere in sé la base autonoma Abbiamo il laboratorio Quindi contiene il laboratorio Anche dei moduli scientifici Quindi per mettere anche Credo si possa muovere Adesso non so se No non contiene un probe Ma magari una cosa che si potrebbe fare Anche aggiungere un probe E renderla attiva La sola in pratica Anche metterci magari una capsula Però questo può tranquillamente contenerlo Magari Non so Anche semplicemente una render can Messa qua Adesso faccio ad esempio Magari non così Messa in altre parti Così da magari Renderlo Una subspecie di rover Adesso Metterci questo Lo trasformerebbe in qualcosa di bruttissimo Quindi no Però magari Aggiungere qualche parte Un mark 2 con un adattatore O anche semplicemente Che ne so Sedili Non lo so Così da renderlo Un vero e proprio rover Che poi può essere attaccato Per trasferire i dati E comunque lavorare in autonomia Che può essere utile Trattandosi di duno Comunque un bel grande pianeta E tra l'altro E tra l'altro quella 090 avrà 2000 biomi Quindi ancora meglio Madonna come driftano ste macchine E poi Gli utility Abbiamo la versione 1 E la versione 2 Gli utility che contengono Sia del fuel Che dell'RCS E in più Due Advanced grappling unit Che personalmente Mi sfugge il perché L'abbiamo E siamo magari Boh Si attacca Puoi attaccare questo Su un asteroide Boh non lo so Oppure Lo attacchi così A random E la utility di 2 Che personalmente Non trovo tutta sta differenza E forse Le luci Non lo so Le parti sono le stesse Quindi o È la stessa No infatti Mi sembra sia la stessa Comunque Non lo vedo Il controllo remoto Però credo ci sia Da qualche parte Magari Glicciato sotto Perché comunque Si deve muovere Quindi Si tratta comunque Di una base modulare Che ha i singoli moduli Che si attaccano Quindi Credo ci sia Eccolo Ok È il generatore termo elettrico Perfetto Adesso andiamo a vedere Ne ha fatte due Ne ha fatta una completa Che sarebbe la versione Per kerbin Che adesso È qua Qui 214 parti Quindi si tratta Una bella base Ovviamente questa Essendo kerbin Un pianeta Che è veramente Un'alta gravità Non ha tirato giù Le landing legs Cosa che avrei fatto anch'io Perché Ci ho anche provato Però Tipo Succede un casino Come potete vedere Quindi Alcune parti si sollevano Altre no Quindi meglio evitare Complessivamente la base È qualcosa di fighissimo Mi ricorda Questo modulo Mi ricorda qualche O qualche concept Della NASA O qualche cosa Che comunque Non di già visto Ma di già visto In serie reale O qualche mod Perché è assemblata È fatto così Figo Che sembra No Una mod Perché comunque Ogni singolo modulo È fatto per funzionare Adesso qua Anche svolto le ricerche Per far vedere In completo Com'è È parecchio efficiente A mio dire Perché Essendo modulare Uno può cambiare Io per esempio Adesso Facciamo una prova Stacco Questo modulo Ah ok Mi sveglio una mattina E dico No guarda Non mi piace più Non lo voglio mettere qua Perché Trovo sia Oddio Però c'è pannelli solari aperti Quindi Fammi ritrarre Prima che magari esplodano E succede un casino Mi sveglio una mattina Ma guarda Non mi piace più E quindi Adesso Facendo un po' di manovre Perché io A fare le manovre Sono anche abbastanza capace Almeno boh Secondo me Quando facevo le prove Insieme Mi parcheggiavo In un modo figo Tipo E quindi boh Mi sveglio una mattina E attacca Guarda Non Si attacca Anche da solo E quindi Adesso Ok Lo voglio qua Adesso Se si attacca Io volevo Oh mio Ta 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 Rivert 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 Non so cosa si è successo Proprio Lo giù Si 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 è Boh E' implore Non lo so Yuppie Base Bum Morta Comunque Andiamo a vedere Ne ha fatta anche una in costruzione Non l'ha completata Su Duna E quindi andiamo a vedere come Giusto Utilizzo la Eve Quindi E' tutto più figo Si vede Un nuvolone su Duna Giusto Ha solamente un modulo Però in sé Come potete vedere Adesso Non ho il tempo materiale per prendere Dovrei utilizzare A credit Che però Però no Vabbè Senza che Utilizzo tutto Comunque E' Piccola E comunque può essere spostata facilmente Quindi Metti caso che L'ha anche costruita in multiplayer Quindi Metti caso che Io E' Tizio Caio Vogliamo fare una base Io ho già costruito La mia base Lui vuole fare altri moduli Ma Abbiamo deciso di spostare Stac 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 i moduli Io controllo uno Lo controlla un altro Tac Andiamo in un punto E costruiamo la base Per questo adoro Quelle modulare O comunque quelle che si possono Autogestire Cioè Io stacco questa E la sposto Do cazzo mi pare E cambia proprio zona E Quindi Credo sia durando Veramente pochissimo Questo video Perché Sto parlando in modo Fottutamente veloce Comunque Si fa Si è distrutta No mi roda il culo Che si è distrutta Perché è perfetta Cioè era tipo Bellissima E Ora Adesso L'ho vista Così di me Però in serio Non riesco a trovare Punti deboli Fra virgolette Cioè cose che possono essere Modificate Perché in sé Il probe Nei moduli Controllati da remoto Non si vede Ogni singola parte È fatta bene Questa è anche comunque Ora dirà Ma perché questo È più lungo Questi sono più corti Perché Qui comunque Qua è l'ora di atterraggio E Si deve comunque Muovere Facilmente Senza evitare Di far sporgere Moduli Moduli Adesso Voglio provare A spostare un modulo Perché prima Mi è esploso E mi ha dato Miro del culo Vaffanculo Quindi adesso Riprendo la base Stacco un modulo E lo riattacco Perché voglio farlo Ci devo riuscire Andrea Cazzo Allora Ok Stacchiamo questo Quanto miro del culo No Fuck Fuck Riuscirò A utilizzare Oh Ogni tanto si muove Ogni tanto no Ma credo sia Un difetto Di Di Kerbal Cioè un qualche Che cazzo È Bo Tra l'altro Non me lo fa neanche saccare Seriamente non so il perché Non penso dipenda Dalla mod Cioè non Cioè Non dalla mod Scusate Da Dalla costruzione Perché veramente Mi pare davvero strano Control from here Magari Il bello è che Attivo I freni Non sono Ecco Ok Ogni tanto O magari prima erano attivati E Mi ha passato il salvataggio E quindi magari si sono disattivati Bo Magari adesso Da questo modulo Perché Boh Sto costruendo una base online Con qualcuno Lo metto al posto di quello Che ho fatto esplodere Quindi Lentamente Evitando magari di sputtanare Tutto come ho fatto prima Ok E quindi E quindi io Poi magari Adesso posso staccare Quello dei pannelli solari Lo posso mettere qua Questo lo posso staccare E mettere qua Posso anche Staccare Tutto dalla centrale Allontanarli Girare Riattaccarli Mi piacciono le modulare Ragazzi Non ci sono cazzi È fighissima Quindi Come ho già detto prima Non trovo Nulla da Da modificare Perché comunque è fatta Veramente Bene Quindi non Sarebbe Forse andrebbe rovinata Se andassi a modificare qualcosa Quindi preferisco Mantenerla così E Veramente Comunque Adesso Mi contraddico Perché Qui già c'è il probe Cioè Può anche essere utilizzato Come modulo a parte Ma magari Lo stacco Ah eccolo Ok E quindi magari Fuck Cazzo Allora Stacco Bisogna Tenere Adesso Non so se aveva Magari tutti I freni attaccati Non so per quale motivo Quindi io magari Se sono su Duna L'elettricità Ce l'ho Perché comunque C'è i generatori termoelettrici Io devo Devo spostarmi Perché magari Sono al confine di un bioma Senza che Faccio duemila Pezzettini del cazzo Stacco direttamente il modulo Attacco E poi trasferisco i dati Una cosa che magari Si potrebbe mettere Magari Una Utilizzando una Piccola Una docking port Di quella piccola O comunque quella media È quello di Mettere un rover Così O Un No un rover che assemblano Perché sarebbe veramente Inutile perché La base si autoassembla Però comunque Magari Fare qualche Un rover O Controllato da remoto O che ci possa Salire direttamente Un kerball Ma adesso Tento di parcheggiarmi Perché tra l'altro Sto al contrario Mi è diventato un po' Un casino Perché non so Filotare al contrario Sì Ok Faccio così va Ci ve lo farò Ok Dai Dai Boeing 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 ho detto Oh Niente Mi odia Fuck Forse devo frenare L'ultimo Perché Si spinge Perché Esplode Random Dom Boh Che cazzo Vabbè Dai Evito di danneggiare Ancora di più La sua base Perché Fuck Forse La roba glitchata Dopo un po' Puff Comunque Spero vi sia piaciuto Questo video Come al solito Iscrivetemi Mettete mi piace Commentate Un saluto a tutti Dal team di Kerbali Italia Da Andrea Ciao